Ciao ragazzi, benvenuti benvenuti al mio canale, io sono Magnus, oggi siamo qui su un horror, The Years of War, la versione naturalmente remake, rimodernizzata, una migliore grafica, noi lo giochiamo su PC, scusate, è uscito anche su PC e su console. La salute mentale è importante e lo so. Allora, sottotitoli, sì, dimensi sottotitoli, facciamo un po' più grande, facciamo tutto, traduzione dei testi, sì sì, modalità, avvisi, puntature, lasciare tutto quanto uguale e accettiamo. Facciamo nuova storia, assolutamente, aumentiamo un po' perché qua sicuramente non si vedrà una mazza però, siamo fiduciosi. ma la scuola e la dolore. Non mi sono ancora sicuro che game che sei spaventato, ma io sono tornato. I'm taking what's mine. It made me think of your poem congratulations Congratulations! Let's close it. Let's close it. Look, I'm aware of the presence of the rat. Ok? But nothing can be done about it. They've been on this island as long as anyone can remember. Let's go. Let's go. Let's go. I don't see the exit. Where is it? I don't see the exit. Let's go. 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 Oh, man. Oh, aspetta. Poi c'è da qualcuno. Ah, già l'ho presa. Già l'ho presa. Ok, non sia. Non mi ricordavo che era stato un po' scortesino, eh? Non mi ricordavo, non mi ricordavo. Non mi ricordavo, non mi ricordavo. Non mi ricordavo, non mi ricordavo, non mi ricordavo, non mi ricordavo. Non mi ricordo la porta. Poi c'è il cassetto. Poi siamo già stati, anche qua è tutto chiuso. Direi di andare a cercare o di salvare. sì i topi ci stanno ma pazienza ci conviveremo con i topi madonna non è qua eh i topi sono il male migliore secondo me queste cose non me le ricordo tirai piano tirai piano sentimi procurerei un bel faro vediamo se no fa sempre chiuso mi ricordavo male il cessetto è sempre bello 118 115 112 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 12 13 13 13 14 14 14 15 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 16 16 15 15 15 15 16 16 16 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 16 17 18 un bicchiere per bere qualcosa è chiusa il nostro ufficio sta la chiave io non inizierei a scendere perché sennò andiamo già niente chi è? ma ci abbiamo anche un cane allora mamma mia raga ma c'è un tempaccio? i cassetti non li apriamo più intanto non ci sta niente sembra una cucina è la cucina ci stanno buffando con porta apre porta ok non c'è niente qua dentro no e allora dobbiamo scendere mi dispiace mi dispiace ma dobbiamo scendere ripariamo e no non prende andiamo è da tanto tempo che non lo facciamo ok perché la testa non mi vado più veloce non c'è sbaglio ripeto i topi sono il male minore una lampadina a parte la di vita del marco si ok fagerla cdfc comunicazione scritta matematica fd non è che si su no accendetemi qualcosa perché non metto una mazza occhio eh ma io o piano piano si stanno illuminando alcune zone questa è la zona di prima ma ma che capito eh non ho capito niente di verità sembra che non ci sia niente qua ok allora dobbiamo andare sopra e basta con questi topi si va su si va su si va su ok 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 ma siamo siamo una montagna una montagna eh ah l'ufficio forse per la chiave vedo che ci sono belle belle forse qua ho trovato le chiavi abbiamo le chiavi eh la prenderei è un'arma via no let me ask you saremmo dovuto essere un po' troppo intelligenti qua non ci sta niente penso no ok abbiamo le chiavi per giù però che è successo che è successo prendi lo prendi ma ma tutte le armi non le prendi eh dai profumo proprio tante volte le volte che apriamo non ci sta niente il violino proprio basta scendo e poi apri la porta allora perché non ho capito tra un po' saltiamo in area penso anche se questa stanza questa non si apre stanza di bambini tranquilla allora un cassetto una foto una bomba a mano no vado schiavalti non ce la fai abbiamo la chiave quindi via dovremo poter entrare la porta era questa ok trappa per topi oh maronna ma papà dirà ti chiamo ora 555 38 questo è vero per topi ok e ora non è che ho ben capito qua dovremo ok dovrei perfetto chiave usata vai vai facciamoci del modo fisico tanto è un quadro dipingo non mi pare che non c'era niente non questo è private due sole così così passionati così talentati e ancora vogliono una cosa così Ordinary Ok Che è successo? Ah, una bomba d'acqua Non è chiuso, io penso Non abbiamo la porta La chiave Ok Guarda che non si vede una mazza, eh Scuso Ho trovato una chiave Dici che la chiave No La chiave è da Di questa Ah Li vingiamo Sì, proprio così Vabbè Qua non si vede No Qu'è la chiave Chissà Chissà Grazie a tutti. Ma che è? Non capisco che cavolo è. Poglimi. Sembra un tasto, sì. Ehi. Oh, Gesù. E non lo preme, scusami. Va, va. Vai. Oddio, mi ha fatto una leva, non è una bo... Una boba a mano. È chiuso. Non puoi combattere, non puoi... Ancora sti topi. Mi sembra un po' cessi... Ah, uscire un cingro? Eh, ma mi serve un codice. Bravo, nel fuoco, bravo. Ottima scelta. Ma che? Che che vuole essere... Bisbalzare due kilo? Non ti preoccupi. È solo un libro, Berti. Codici non ho visto. Occhio, eh. Sai che non si... No, ricordi. Siamo in troppo. Eh, no? Deve trovare qualcosa per... Guarda meglio. Allora, ci sono solo numeri qua. Puoi scegliere un cilindro? Vabbè. E vediamo un po' Se i numeri sono... Quattro... Nove... E... E... E sei? Sì. Quindi sei, nove, quattro. Allora, sei, nove, quattro. Vediamo se sei, nove, quattro. Quindi... Sei... Anche i turni, no? Una chiave? E poi deve essere per forza questa copiola via questa. Quattro... 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 Queste sono grandi condizioni, posso finire, posso. Ho bisogno, ho bisogno, per tutti i nostri sessi, per la nostra famiglia. Per la nostra famiglia? O per te? Perchè, ripetere le scelte. Ciao. La griglia di i nostri occhi, la griglia di mia pelle. Prosthesi snatchers, in... Ho avuto la più bella. Credo che dovremmo mettere la dacata qui. Che zona è questa? C'è ansia e angoscia, però, eh. Bello sto quadro. Ok. Vabbè ragazzi, mi sono bloccato in questa stanza. Scrivetevi sotto nei commenti che cosa ne pensate. È un po' buio, ed è anche un po' lento, perlomeno per l'inizio. Ci vediamo in questo video, vai! Ciao! 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 Ciao!